L'impressionismo è una corrente pittorica che nasce intorno al 1860. Di fondamentale importanza per la nascita dell'impressionismo sono le esperienze del romanticismo e del realismo. Con quest'ultimo, l'impressionismo condivide l'interesse per la rappresentazione della realtà quotidiana, ma se ne discosta per l'assenza di impegno sociale e politico. Seppur l'esperienza impressionista duri poco più di vent'anni, essa segna profondamente la storia dell'arte, rivoluzionandone completamente la tecnica e lasciando un'eredità con cui si confronteranno tutte le esperienze pittoriche successive. La tecnica impressionista scaturisce dalla scelta di rappresentare esclusivamente la realtà sensibile, occupandosi quindi dei fenomeni ottici della visione e cercando di riprodurre la sensazione ottica con la maggior fedeltà possibile. Dal punto di vista della poetica, l'impressionismo evita qualsiasi riferimento a una dimensione ideale della realtà e qualsiasi tentativo di una romantica evasione verso mondi idilliaci, palesando invece la volontà di calarsi interamente nella realtà urbana di quel periodo storico per evidenziarne i lati positivi e gradevoli. Anche le rappresentazioni paesaggistiche e rurali sono viste attraverso gli occhi degli abitanti della città, individui che apprezzano la bellezza del progresso e della civiltà. I protagonisti dell'impressionismo sono per la maggior parte pittori francesi, Claude Monet, soprattutto, e poi Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarot ed Edgar Degas. Tra la schiera dei pittori definiti impressionisti, Édouard Manet è in realtà il precursore del movimento, mentre Paul Cézanne è l'artista che per primo supererà l'impressionismo. Date fondamentali per seguire lo sviluppo dell'impressionismo sono il 1863, anno in cui Édouard Manet, che abbiamo detto che è appunto il precursore del movimento, espone l'opera dal titolo Colazione sull'erba, poi, undici anni dopo, il 1874, anno della prima mostra dei pittori impressionisti presso lo studio del fotografo Nadar, e il 1886, anno dell'ottava e ultima mostra impressionista. Le specificità dell'impressionismo sono la prima, le rivoluzioni tecniche sul colore e sulla luce, la seconda, la pratica dell'ample n'air, la terza, la poetica dell'attimo fuggente, la quarta, i soggetti urbani. Le rivoluzioni tecniche sul colore e sulla luce. La grande specificità della pittura impressionista si trova in particolar modo nell'uso del colore e della luce, che diventano gli elementi principali della visione. Questa scelta è influenzata dalle scoperte scientifiche di quegli anni, che mostrano come l'occhio umano percepisca prima di tutto la luce e i colori. E solo in un secondo momento, attraverso la sua capacità di elaborazione cerebrale, l'essere umano distingua le forme e lo spazio in cui colore e luce sono collocati. Quindi colore e luce prima di tutto. L'occhio umano ha recettori sensibili, soprattutto a tre colori, il rosso, il verde e il blu. E la diversa stimolazione di questi tre recettori produce nell'occhio la visione dei diversi colori. Una stimolazione simultanea di tutti e tre i recettori, mediante tre luci pure, rossa, verde e blu, dà la luce bianca, meccanismo definito sintesi additiva. Il colore che percepiamo dà un oggetto e luce riflessa dall'oggetto stesso. Un oggetto di colore verde, ad esempio, non riflette le onde di colore rosso e blu, ma solo quelle corrispondenti al verde. E lo stesso accade ai colori che l'artista pone sulla tela. I colori sono quindi dei filtri che non consentono la riflessione degli altri colori. E sovrapponendo più colori si ottiene una filtratura progressiva fino a giungere al colore nero, per mezzo della cosiddetta sintesi sottrattiva. I colori posti su una tela operano sempre una sintesi sottrattiva. Maggiore è il numero di colori che si mischiano e si sovrappongono, minore è la luce che riflette il quadro. Consci di ciò, i pittori impressionisti dipingono in modo da ridurre al minimo la perdita di luce riflessa, con l'intento di dare alle loro tele la stessa intensità visiva che si ottiene da una percezione diretta della realtà. Per ottenere questo risultato utilizzano le seguenti tecniche. La prima, fanno uso soltanto di colori puri. La seconda, non diluiscono i colori per realizzare il chiaroscuro che nelle loro tele è infatti del tutto assente. La terza, accostano colori complementari per esaltare la sensazione luminosa. La quarta, non usano mai il nero. La quinta, colorano anche le ombre. Nella pittura impressionista si evidenziano due diversi atteggiamenti. Da un lato ci sono artisti come Monet che vogliono offrire sensazioni visive pure e non si preoccupano di quali siano le forme che tali sensazioni ottiche producono. Dall'altro ci sono pittori come Cézanne e Degas che per mezzo della tecnica impressionista vogliono offrire la visione di forme inserite in uno spazio. Mentre Monet fa vaporizzare le forme dissolvendole nella luce, Cézanne ricostruisce le forme stesse utilizzando però solo la luce e il colore. La pratica dell'en plein air. Altra caratteristica che accomuna i pittori impressionisti è quella di realizzare i loro lavori non negli atelier ma direttamente sul posto, pratica che viene definita en plein air. Seppur già i paesaggisti realisti della scuola di Barbizon utilizzassero questa tecnica, ciò che realizzavano all'aria aperta era in genere soltanto una stesura iniziale sulla quale lavorare poi in studio fino ad arrivare all'opera completa. Gli impressionisti invece, Monet tra tutti, portano al limite estremo la pratica dell'en plein air completando i loro lavori direttamente sul posto. Questa scelta è dettata dalla volontà di cogliere tutti gli effetti luministici che la visione diretta fornisce, mentre una prosecuzione del quadro nello studio avrebbe richiesto l'uso della memoria dell'artista con una conseguente alterazione della sensazione immediata della visione stessa. Gli impressionisti sono infatti consapevoli del fatto che la luce è estremamente mutevole e che anche i colori di conseguenza sono soggetti a continue variazioni. Ed è il piacere di tale sensazione di mutevolezza che essi vogliono rendere con la loro pittura e che temono si perda con una stesura troppo meditata dell'opera. Ricordiamo inoltre che la pratica dell'en plein air influenza la scelta del formato della tela che deve essere più facile da trasportare e che risale a questo periodo anche l'invenzione dei tubetti per i colori a olio e del cavalletto da campagna anch'esso facile da movimentare. La poetica dell'attimo fuggente La scelta dei pittori impressionisti di rappresentare la realtà cogliendone le impressioni istantanee li porta all'esaltazione della sensazione dell'attimo fuggente. La realtà infatti muta continuamente di aspetto. La luce cambia istante dopo istante. Gli oggetti si spostano nello spazio e la visione di un momento è già diversa nel momento successivo. Tutto scorre e la pittura impressionista intende trasmettere questa sensazione di movimento. Ricordiamo a questo proposito le numerose versioni della cattedrale di Rouen di Monet riprodotta nelle diverse ore del giorno e in varie condizioni climatiche. L'attimo fuggente della pittura impressionista è diverso dal concetto di momento pregnante della pittura neoclassica e romantica. Mentre il momento pregnante sintetizza infatti una storia nel suo momento più significativo l'attimo fuggente non ha nulla a che fare con le storie e coglie invece le sensazioni e le emozioni che nella pittura impressionista sono sempre felici positive, gradevoli. L'impressionismo per la prima volta dopo la pittura Rococò si allontana da atteggiamenti tragici o drammatici per rappresentare un mondo allegro e spensierato un mondo nel quale è bello vivere. L'attimo fuggente ha chiare analogie con la fotografia. Anche la fotografia infatti rende l'immagine della realtà in una frazione di secondo e dalla fotografia gli impressionisti mutuano i tagli di inquadratura che rendono le loro immagini particolarmente moderne. Altra importante novità della pittura impressionista è quella di rappresentare principalmente gli spazi urbani esaltando la gradevolezza della vita in città. Fino a quel momento infatti la città era vista come una sorta di luogo infernale malsano resa tale dalle conseguenze della rivoluzione industriale. I centri storici si erano infatti affollati di immigrati dalle campagne e le periferie sorgevano come baraccopoli prive delle più basilari condizioni igieniche e senza alcuna qualità estetica. L'impressionismo è invece un atteggiamento positivo nei confronti della città e in particolar modo di Parigi che sul finire dell'Ottocento si sta affermando come la città più importante e gaudente d'Europa. Luogo di raccolta dei maggiori intellettuali artisti dell'epoca in cui si possono trovare i maggiori teatri gli oggetti più eleganti alla moda e dove si può godere di tutti i maggiori divertimenti del tempo. I luoghi raffigurati nei quadri impressionisti diventano così tutti seducenti. le strade i viali le piazze i bar gli stabilimenti balneari lungo la Seine i teatri ricordiamo ad esempio il dipinto Ballerine di Degas e persino le stazioni come nel famoso quadro di Monet Legare Saint-Lazare. Bene questo è tutto per quanto riguarda le caratteristiche fondamentali dell'impressionismo. Procediamo. quindi nonostante un filo rosso molto evidente colleghi tutti gli artisti impressionisti il movimento non può considerarsi come monolitico e ogni artista secondo la propria sensibilità lo rappresenta in modo diverso. Monet per esempio si interessa soprattutto alla rappresentazione di paesaggi naturali anziché urbani e negli ultimi anni della sua vita ritrae moltissime volte e lo stesso soggetto in momenti diversi per studiarne i cambiamenti nel tempo ad esempio nel dipinto Ninfè. Altri artisti come Renoir o Degas si interessano invece alla figura umana in movimento quali ad esempio scene di vita quotidiana o ballerine. Molti sono gli artisti che non si possono definire del tutto impressionisti ma che dall'impressionismo sono ma che dell'impressionismo sono evidenti precursori. Allo stesso modo molti sono quelli che nati in seno all'impressionismo se ne sono distaccati. L'unico artista che sempre per tutta la vita rimarrà impressionista è Monet. In estrema sintesi possiamo affermare che l'impressionismo nasce con Manet raggiunge il suo culmine con Monet e si chiude con Cézanne che poi ne uscirà sviluppando in modo indipendente la propria ricerca considerata da alcuni premessa del cubismo. La teoria del colore impressionista viene esasperata nel pointillisme di Georges-Pierre Seurat dove i colori non vengono mescolati ma semplicemente accostati in punti minuti in modo che sia l'occhio a creare le tinte intermedie. Vincent Van Gogh compie invece una svolta proprio grazie agli impressionisti ma da questi si discosterà precorrendo l'espressionismo. Esponenti dell'impressionismo italiano possono essere considerati Federico Zandomeneghi Giuseppe Denittis e i macchiaioli che tuttavia hanno posizioni più vicine alla tradizione quattrocentesca. molto bene questo è tutto spero che questo video vi sia utile vi faccio un grande in bocca al lupo per i vostri studi e per l'esame di maturità alla prossima e per i vostri studi e per i vostri studi